Non resta che sperare nel TAR, i tifosi dell'Avelino si aggrappano a questo per non veder precipitare di nuovo nel baratro della Serie D la squadra bianco-verde. Dopo la bocciatura al Collegio di Garanzia del CONI, la sospensiva del Tribunale Amministrativo potrebbe essere già discussa nella prima decada di agosto. Intanto l'umore dei tifosi è sotto i tacchi. È una tragedia per gli Avelinesi, dopo aver fatto la Serie A per dieci anni. È stata una cosa ingiusta perché dovevano essere prenalizzate anche altre squadre. Peggio di spetta a questa città non glielo potevamo fare. Avevamo solo questa distrazione, diciamo. È importante il calcio ad Avelino e poi abbiamo una grande storia. È un fatto politico, non c'è nulla da fare. Perché se si legge la motivazione che l'Avelino si presume che economicamente e culturalmente è in grado di poter fare la Serie B, per un cammino tu ci cacci fuori. Rispecca un poco quello che è diventato Avelino in questo momento. Siamo proprio una squadra di promozione. Siamo addolorati proprio per il fatto dell'eliminazione del camionato. Non è commentato. Con una gestione molto più oculata si poteva fare tanto, tanto meglio. Sperando che chi entra al posto di Dacone faccia le cose come tanti anni fa, 1978-1988. Ora la speranza resta il TAR. Ma sinceramente non è che ci credo più di TAR. Però da tifosi continueremo sempre ad andare allo stadio. Speriamo che il ricorso al TAR ci diano la speranza di andare avanti. Spero che al TAR riusciamo a risolvere il problema. Spero che al TAR riusciamo a risolvere il problema. Speriamo che il ricorso al TAR.